A parte gli scherzi, bentornati in questa nuova puntata. Allora, come da puntata scorsa che abbiamo fatto i lava generator, oggi torniamo sempre sui generatori e facciamo il furnace generator, o per meglio dire, lag temperature temperature furnace generator. Bene, ora ne abbiamo 64, stessa cosa dell'altra volta, facciamo un transfer node di energia, lo mettiamo qui, me ne servono 8, come sempre sono un idiota, ho dimenticato di fare una cosa, come sempre, prendiamone uno, lo insegniamo, questi qua, poi questo qui e questo, perfetto, un high temperature furnace generator, oggi ne faccio solo uno, magari poi ne faccio un altro in privata sede, ora non c'ho voglia di mettermi a farne un altro, poi prendiamo l'energy, come cazzo ti chiami, collector e l'antimateria relay, poi prendiamo la cesta, le buttiamo via, e prendiamo mk2, non ho insegnata, perfetto, sono un idiota. prendiamo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 4, perfetto, 4 di questi, 4 di questi, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3, 4 e questo qua nel mezzo, e glielo insegniamo, perchè se no è tutto inutile, perfetto, ora che abbiamo anche questa roba, torniamo su, andiamo a prendere un po' di glowstone, che ci serve, ho più glowstone che redstone, ma perchè mi è servito un sacco quelle stanze dorate, e andiamo qua dentro, nella stanza della high temperature, cazzo duro, estrae energia, bene, questo qua come il lava generator tiene 6 milioni, ho già fatto questa stanza, perchè di qua è attaccato la stanza dell'equivalent, quindi, iniziamo a rompere un po' il telefono, di nuovo, ma che cazzo, oggi non vogliono proprio che registri eh? Allora, prima di tutto, mettiamo questo, 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 questo e questo qua. Ok, 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 ok. Poi, questo qui, qua, qui, qua, qui, qui, e gli ultimi 4 che vanno qua sotto, sopra, questo qui ci attacchiamo e non lo chiudiamo. ora, come vedete, ho creato di nuovo una rosa di, come si chiama, di energia, andiamo nella stanza dell'energia, mi sembra di aver visto una mucca, dell'energia appunto, e prendiamo questo qua, questo qua, che è il ethereal fuel block, ops, dovevo andare sopra, ora che abbiamo questo ethereal fuel block, ah, porca miseria, ethereal fuel block, lo mettiamo qui, e lo facciamo copiare, questo perché, come vedete, appunto, questo brucia 921.600 volte, e guardate qui, durano 5 secondi l'uno, ma crea 2500, 25600 di energia, e non la sta ciucciando, come mai? forse ho staccato il filo, no, dovrebbe, forse è così potente che non riesce a ciucciare tutta l'energia, sì, infatti, 21.000 a tick, 21.000 a tick, porca puttana, miseria, c'è, cazzo, guarda, guarda, guarda quanto scende, 3 milioni di energia così a, a, a babbo morto, cazzo, ho bisogno anche di una cesta, effettivamente, quando avrò bisogno di energia di energia, vado lì, proof, dentro, chest, va bene l'alchemical, perché mi piace, e la mettiamo qui, dentro il fuel, questo quando poi non mi servirà, cioè lo utilizzo anche per, per fare altri oggetti a sto punto, domanda, sì, è al massimo, credo, sì, no, non è del tutto al massimo, nonostante tutto, ma chi se ne frega, proprio, totalmente d'ignoranza, bene, signori, questa è un'altra fonte di energia, che praticamente non si esaurirà, praticamente mai, cioè i cavi non riescono neanche a fare in tempo a ciucciare tutta l'energia, tutta l'energia creata, porca miseria, dovrei fare tipo un modo super andis, tipo così, vabbè questo è stato inutile, facciamo così, vediamo se, se lo estraggo da più punti, se funziona, beh, beh, no, dopo un po' no, per un po' regge, ma dopo un po' non ce la fa, quindi dovrei tipo fare i cavi, come si chiamava quello che ciucciava infinito? beh, oddio, basta fare così, oggettivamente non serve, basta metterci sopra un tesseract e via, quindi in privata sede mi metto e faccio un tesseract, tolgo tutta sta roba qui che tanto non serve, che tanto il tesseract ci servirà più avanti, quindi, tesseract, vediamo, se c'è tanto da fare lo faccio dopo, dopo lo faccio, dai, adesso non ce la faccio a farlo in un video corto, quindi, signori, vi ringrazio per avermi seguito, come al solito, se mi avete seguito, mamma mia, c'è un solo blocco, rendeteci, rendetevi conto, un solo blocco fa quasi metà, metà barra, porca miseria, quante energie che produrremo, vi ringrazio per avermi seguito, come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto, signori, ci vediamo a un prossimo episodio, fatemi rompere questo cavo, perfetto, ciao a tutti! Grazie a tutti!